La tariffa Tari 2018 è stata rimodulata riducendo la parte fissa e aumentando quella variabile. Nel piano finanziario 2018 sono stati inseriti perché non erano stati riportati anche i costi del 2017. Queste le precitazioni del sindaco di Gioiosa Marea Ignazio Spanò in risposta ad alcune esternazioni che sono state di recente evidenziate dal gruppo consigliare di minoranza. Il piano finanziario è stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale ed il sindaco ha ribadito che è identico a quello del 2017, però rivisto e rimodulato e sono stati riportati i costi del 2017 per un incremento di 135.000 euro. Questi costi sono gli ecopunti, 77.000 euro di ecopunti, quindi sono minori ricavi e essendo minori ricavi possiamo considerare i maggiori costi che vanno riportati sul 2018 sono la quota dell'SRR per il 2017 perché nel piano finanziario del 2017 circa 18.000 euro non erano stati riportati e la tassa provinciale del 5% che bisogna versare alla provincia regionale. Da buon amministratore ho ritenuto che questi maggiori costi dell'anno 2017 andassero riportati giustamente sull'anno 2018. La legge prevede che il costo debba essere coperto interamente dalle tariffe, così non è avvenuto negli anni precedenti. È diminuita la parte fissa, quindi la tariffa legata alle superfici delle abitazioni ed è aumentata la parte variabile, quella legata ai componenti. Questo vuol dire che chi continuerà a fare la differenziata, anzi implementerà la differenziata così come noi ci auguriamo che i cittadini gioiosani facciano, avrà possibilità di ottenere maggiori sconti sugli ecopunti perché gli ecopunti non sono stati modificati. Grazie. Grazie. Grazie.